Lancio in contropiede di Langella, sua sinistra si vola, è Giolella, Langella sinistra, Langella terra, rigore, 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 ovisi sportivi, trova l'uomo, Cagione e Caglioli al 43esimo minuto, calcio di rigore, Langella, irresistibile sulla sinistra, su di lui, un giocatore che gli ha messo il piede tra pallone e gamba, messo a terra, calcio di rigore, attenzione amici sportivi di Lagerina, 43esimo minuto del primo tempo, stadio Sant'Elia, Il Cagliari guadagna un calcio di rigore, decisione di Airoldi, li protestano i giocatori della Juventus ma non c'è da protestare, nettissimo il fallo, nettissimo il fallo ai danni della freccia, Antonio Langella, pubblico in piedi, stadio Sant'Elia, 18.000 spettatori in piedi, Devo di Suazzo, capocannoniere del Cagliari dagli 11 metri, attenzione, davanti a lui il portiere più forte del mondo, Gianluca Buffon, Amici sportivi, momento importante, storico al Sant'Elia, rincorsa, 7 metri di rincorsa per Devo di Suazzo, tutto pronto, amici sportivi, rincorsa, ecco che parte, Devo di Suazzo, stile rete, rete, rete amici sportivi, schiazzato, pallone a sinistra, Buffon a destra, ha fintato la gran botta di forza, di prepotenza, e ha schiazzato invece il portiere più grande del mondo, 18 gol, Devo di Suazzo, il saluto al pubblico del Sant'Elia, ed ecco verso la telecamera, stora dicendo, amore mio alla moglie, al figlio, alla famiglia, tutti i tardi, amici sportivi, 44 minuti e 30 secondi, Cagliari 1, Juventus 0. La rimessa in gioco di Camoranesi per Zambrotta, parte il traversone, in area di rigore, c'è l'intervento, incredibile, incredibile, un rigore contro il Cagliari, c'è da mettergli le mani addosso a questo qui, vergogna, 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 incredibile, un intervento di Daniele Conti, d'anticipo, di testa, che poi certamente franava anche sull'avversario, una vergogna storica, amici sportivi della durina, una vergogna da non rivedere sui campi di calcio, calcio di rigore, al 12esimo minuto della ripresa, in favore della Juventus, è una vergogna storica, vergogna Iroldi, vergognati, incredibile, guardate, ci stiamo guardando tutti qua, ma roba da non credere, roba da non credere, quello che ha fatto, vediamo il segnaline, forse è stato proprio il segnaline a indicare a questo scadente arbitro, vogliamo essere generosi, vogliamo essere generosi e educati, scadente eterna arbitrale come minimo, vergogna, calcio di rigore, Del Piero, ma Antonio Chimenti, forza dai, forza Sant'Antonio Chimenti, pensaci tu a lavare questa vergogna nel calcio italiano, dovrebbero vergognarsi, Moggi, Giraudo, Bettega, non è questo, non è calcio, d'accordo, 80 punti, siete i più bravi del mondo, non c'è dubbio, sta per entrare Alessandro Budel, Conticchio forse non ce la fa, calcio di rigore, Antonio Chimenti, protesta, continuano le proteste delle caglie, stiamo ormai giunti alla tredicesia un minuto e naturalmente sapevamo che non poteva finire così, vediamo, Del Piero, rincorta, Chimenti, tira, parato, 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 grandissimo numero, grandissimo numero, Chimenti di piede, para, vergognati Eroldi, vergognati, vergogna, calcio di rigore, parato, che e te, calcio di rigore, te, glielo vengo io, glielo vengo per vergogna. Trossi in area, esce Chimenti, il gioco prosegue e l'arbitro non fischia ma la palla è finita fuori calcio d'angolo addirittura viene concesso alla Juventus, 30 secondi, 30 secondi amici sportivi attenzione calcio d'angolo sotto porta rette, porca d'una puttana ragazzi, porca d'una miseria scusate parezza la Juventus, cartellino rosso per un giocatore del Cagliari pareggio della Juventus al 94esimo, maledetto 94esimo minuto e 30 secondi maledetto sia il 94esimo minuto e 30 secondi, finisce la partita